Io mi chiamo De Lorenzi Rudi, sono italiano e vivo in Belgio a Bruxelles e diciamo che a 54 anni ho cominciato a avere problemi perché si rompevano tutti i denti giù e dico meno male che è capitato nel periodo covid che avevo la maschera e ero contento di portarla perché era una cosa veramente brutta e non riuscivo nemmeno più a mangiare come si deve. È stato un problema veramente molto grosso e fastidioso perché anche con la gente quando tu sorridi e tutti guardano là è una cosa brutta. Ma sono andato a vedere da me là in Belgio ci sono tanti dentisti anche e poi ho visto questa questa promozione su Facebook di SOS Denti e mi è piaciuto molto. C'è Vadim che è una persona molto molto simpatica molto professionale. Sono in gamba. Adesso ancora che non ha messo i denti? No. Però adesso già con questi provvisori sono sentito già molto meglio. Potevo mangiare di nuovo normalmente. Dico normalmente perché è veramente così. Tornare a sorridere, non più nascondermi e adesso che sta finendo questo covid non c'è più maschera ma sto bene così. Adesso sono felice. E quanto è importante per le mie sorridere? Molto. Molto perché sono una persona che sorride molto di solito. E' come riavere i denti anche se... E' come una rinascita quasi. Ma poi anche importante poter mangiare di nuovo normalmente è una cosa molto importante. Quando tu non puoi più mangiare neanche più il pane e certe cose così è brutto. Di venire qui in Romania senza timore perché veramente sono tutti molto in gamba, molto professionali, molto gentili. E' andato tutto bene. Si occupano bene di noi. Mi sono sentito molto bene qui. Grazie.